Abbiamo il piacere di presentarvi Aurora. Aurora è la nostra nuova macchina di taglio che si inserisce nella piattaforma di macchina di taglio di FK. Aurora utilizza gli stessi componenti delle altre macchine di taglio di nostra produzione come l'elettronica, la meccanica e tutto il know-how che abbiamo sviluppato. È una macchina che nasce per tagliare 8 cm di materasso compresso ma può arrivare fino a un foglio singolo grazie al fatto che è possibile regolare l'aspirazione e quindi ridurre i consumi che poi è stato sempre il nostro punto di incontro con il mercato. Aurora nasce come prodotto preconfigurato proprio per essere più competitivi sul mercato. Questo non impedisce però di poter installare su Aurora degli optional a seconda delle richieste dei nostri clienti. Questo ci permette di essere presenti ancora maggiormente con questa nuova macchina che abbiamo prodotto. Restiamo a disposizione per ogni eventuale vostra richiesta. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.